Loro Matteo Renzi lo conoscono bene perché da dieci anni lo raccontano, una conferenza stampa e un retroscena dopo l'altro, sulle pagine di Repubblica. È costruito sulla cronaca dai palazzi e dalle strade della città del sindaco che ha conquistato a furor di voti la segreteria nazionale del PD, il seduttore, sottotitolo Matteo Renzi e la sinistra Rosè, scritto a due mani da Simona Poli e Massimo Vanni per Barbera Editore, rappresentato a Firenze con Sergio Staino e il caporedattore della redazione fiorentina di Repubblica, Sandro Bertuccelli. Di sicuro è risultato seducente al grande pubblico il linguaggio che lui ha usato e ha introdotto nella politica, un linguaggio molto diretto, molto popolare, un linguaggio anche molto disinvolto. Il suo momento principale è quello di avere rotto gli schemi, gli schemi del suo partito ma anche gli schemi della politica italiana. che prevede che prima di fare il grande passo si faccia tutto un curso sonorum che invece Renzi ha fatto in maniera molto accelerata. Che cos'è la sinistra Rosè? Beh, è una sinistra sicuramente molto diversa da quella che abbiamo conosciuto. È una sinistra che soprattutto fa a meno del gruppo dirigente che per 30-40 anni ha guidato il principale partito della sinistra. E quali sono i difetti di Renzi il seduttore? Il suo difetto è forse quello di stare poco a sentire gli altri e di fidarsi troppo di se stesso. Il suo limite forse è anche la sua forza, cioè fino ad oggi non ha espresso una chiara identità politica del partito. Però questa in fondo è stata anche la sua forza perché questo gli ha permesso di avere un consenso largo al di fuori dei tradizionali confini della sinistra e del PD. Grazie. Grazie.